benvenuti giocatori è un piacere avervi qui in questo breve video vi spiegherò esattamente che cos'è un escape on the road a differenza delle escape room tradizionali non sarete rinchiusi in una stanza gioco ma l'avventura si svolgerà tra le vie del centro città avrete 90 minuti di tempo per svelare i misteri della storia attraverso enigmi e rompicapi ecco come funziona la partenza dell'avventura coincide con la geolocalizzazione di google maps dopo che avrete scaricato l'applicazione sul vostro dispositivo avrà inizio la partita e per qualsiasi problema sarete sempre in comunicazione con me l'escape on the road è adatta a gruppi di amici famiglie e team building aziendali vi aspetto